Ciao a tutti ragazzi, sono Dav, vi do il benvenuto in questo nuovo video, siamo oggi con il sesto episodio del road to prima divisione come vedete siamo andati ad acquistare dopo esser saliti di divisione il cdc cambiando di ruolo quindi prima eravamo sempre con un 4-3-3 ma con il C.O.C. a questo punto delle stagioni in cui andavo a subire un po' troppi gol ho deciso di andare a comprare Gokkan Hiller come cdc, ottimo giocatore, poi lo vedrete anche nelle sue azioni come vedete prima partita di oggi, partiamo in svantaggio qui col Pepito Rossi in velocità ragazzi davvero fortissimo questo giocatore, velocissimo, non sbaglia la conclusione, firma il gol dell'1-0 1-0 che però guardate appena riusciamo a battere, riusciamo anche a pareggiare qui è Alvaro Morata a siglare con questo palonetto fantastico il gol del pareggio quindi 1-1 dei nostri, partita quindi sistemata immediatamente, trentesimo minuto rivediamo ancora la prodezza di Alvaro Morata che scarsa tutta la difesa sigla il gol del pareggio, pareggio che riusciamo quindi a superare con questo 2-1 sempre di Morata, bravissimo nell'intercettare un pallone quindi recupera la boccia in difesa sigla il gol del 2-1 quindi doppietta del nostro bomber, rivediamo ancora il replay Alvaro Morata 73esimo poi qui si scatena Florenzi in mezzo a 2 il cross è ancora per la testa di Morata, 3-1 tripletta personale novantesimo minuto quindi chiude definitivamente i conti, vittoria per i nostri e andiamo a guadagnare 497 crediti come vedete partita assolutamente dominata prima partita, prima vittoria, iniziamo al meglio questa divisione con una vittoria andiamo ad acquistare anche un altro centrocampista, si tratta di Borca Valero che andiamo immediatamente ad inserire nella nostra formazione come CC e dunque aumenta sempre di più la qualità della nostra squadra siamo arrivati ad acquistare 6 giocatori oro rari andiamo ad affrontare questa formazione ragazzi guardatela fortissima con i barbo lì davanti, i barbo subito pericoloso in questo frangente siamo al 27esimo minuto, sbaglia però la conclusione, qui invece Pianici con un pallonetto guardate come cazzo la parata di testa il portiere fortunatissimo qui ancora i barbo ragazzi, il baggatone a servire Lucas che però viene servito a sua volta da Ogbonna qui sbaglia clamorosamente l'intervento Angelone e in velocità Lucas lo supera segna, guardate qua l'intervento ha ciccato completamente la palla poi Lucas non sbaglia per il gol dell'1-0 1-0 che possiamo raggiungere guardate con questa occasione di Florenzi che tira una fucilata all'incrocio, miracolo qui del suo portiere non ci saranno più occasioni e purtroppo andiamo a perdere la seconda partita 400 crediti guadagnati 1-0 partita che poteva meritare forse qualche cosa in più come vedete lui ha fatto tantissimi tiri 3 punti, 2 partite, 1 vittoria, 1 sconfitta con quei crediti andiamo ad acquistare un bomber abbiamo bisogno di gente che segna lì davanti andiamo a prendere Mario Gomez 82 de Veroli, giocatore della Fiorentina il tedesco che andiamo naturalmente a mettere proprio come punta della nostra squadra l'unico ATT andiamo a vedere anche la terza partita di oggi qui subito in vantaggio con Jovetic il mio avversario pareggio che Guardate Gomez riesce a sistemare il match qui è atterrato clamorosamente in aria calcio di rigore per i nostri bravissimo Mario a guadagnare il tiro dal dischetto tranciato il giocatore tedesco sul dischetto va Miralem Pjanic spacca la porta spiazzando Neuer segna il gol del momentaneo pareggio pareggio che però ragazzi si trasforma in un 2 a 1 per l'avversario anche lui sul calcio di rigore qui bruttissimo l'intervento di Ogbon che trancia le gambe a Jovetic quest'ultimo andrà proprio lui sul dischetto e come vedete dalle immagini il nostro Morgan De Santis non riesce a pararla nonostante un tiro sia centrale sia rimasto anche centrale ma riesce comunque Jovetic a segnare la sua doppietta personale e a portare in vantaggio la sua squadra partita che non vedrà più occasioni da rete nel secondo tempo si conclude proprio su questo risultato 2 a 1 sconfitta dei nostri raga purtroppo siamo stati sfortunati in questo frangente a non riuscire a ottenere perlomeno un pareggio questo episodio termina qui raga noi ci vediamo nel prossimo video mi raccomando commentatemi sempre con i giocatori che volete che io acquisti lasciate un like commentate iscrivetevi al canale e passate alla pagina facebook noi ci vediamo al prossimo video Bella Bomber Ciao